Dino Buzzati, una goccia. Una goccia d'acqua sale i gradini della scala. La senti? Disteso in letto nel buio, ascolto il suo arcano cammino. Come fa? Saltella? Tic, tic. Si ode a intermittenza. Poi la goccia si ferma, e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva. Tuttavia sale. Il gradino in gradino viene su, a differenza delle altre gocce che cascano perpendicolarmente in ottemperanza alla legge di gravità, e alla fine fanno un piccolo schiocco, ben noto in tutto il mondo. Questa no. Piano piano si innalza lungo la tromba delle scale lettera E dello sterminato casamento. Non siamo stati noi, adulti, raffinati, sensibilissimi, a segnalarla. Bensì una servetta del primo piano, squallida, piccola e ignorante creatura. Se ne accorse una sera, a ora tarda, quando tutti erano già andati a dormire. Dopo un po' non seppe frenarsi. Scese dal letto e corse a svegliare la padrona. Signora, sussurrò, signora, cosa c'è? Fece la padrona riscuotendosi. Cosa succede? C'è una goccia, signora, una goccia che viene su per le scale. Che cosa? Chiese l'altra sbalordita. Una goccia che sale i gradini, ripete la servetta, e quasi si metteva a piangere. Va, va, imprecò la padrona. Sei matta? Torna il letto, Marsh, hai bevuto, ecco il fatto, vergognosa. È un pezzo che al mattino manca il vino nella bottiglia, brutta, sporca, se credi. Ma la ragazza era fuggita, già rincantucciata sotto le coperte. Chissà che cosa le sarà mai saltata in mente a quella stupida, pensava poi la padrona, in silenzio, avendo ormai perso il sonno, ed ascoltando involontariamente la notte che dominava sul mondo, anche lei udì il curioso rumore. Una goccia saliva le scale, positivamente. Gelosa dell'ordine, per un istante la signora pensò di uscire a vedere. Ma che cosa mai avrebbe potuto trovare alla miserabile luce delle lampadine oscurate, pendule dalla ringhiera? Come rintracciare una goccia in piena notte, con quel freddo lungo le rampe tenebrose? Nei giorni successivi, di famiglia in famiglia, la voce si sparsa lentamente, e adesso tutti lo sanno nella casa, anche se preferiscono non parlarne, come di cosa sciocca di cui forse vergognarsi. Ora molte orecchie restano tese, nel buio, quando la notte è scesa a opprimere il genere umano, e chi pensa a una cosa, chi a un'altra. Certe notti la goccia tace, altre volte, invece, per lunghe ore, non fa che spostarsi, su, su, si direbbe che non si debba più fermare. Batto nei cuori, allorché il tenero passo sembra toccare la soglia. Meno male, non si è fermata. Eccola che si allontana, tic, tic, avviandosi al piano di sopra. So, di positivo, che gli inquilini dell'ammezzato pensano di essere ormai al sicuro. La goccia, essi credono, è già passata davanti alla loro porta, né avrà più occasione di disturbarli. Altre, ad esempio, io che sto al sesto piano, hanno adesso motivi di inquietudine. Non più loro. Ma chi gli dice che nelle prossime notti la goccia riprenderà il cammino dal punto dove era giunta l'ultima volta, o piuttosto non ricomincerà da capo, iniziando il viaggio dai primi scalini, umidi, sempre, ed oscuri di abbandonate immondizie? No, neppure loro possono ritenersi sicuri. Al mattino, uscendo di casa, si guarda attentamente la scala semmai sia rimasta qualche traccia. Niente. Come era prevedibile? Non la più piccola impronta. Al mattino, del resto, chi prende più questa storia sul serio? Al sole del mattino, l'uomo è forte, è un leone, anche se poche ore prima sbigottiva. O che quelli dell'ammezzato abbiano ragione? Noi, del resto, che prima non sentivamo niente e ci si teneva esenti da alcune notti pure noi udivamo qualcosa. La goccia è ancora lontana, è vero. Da a noi arriva solo un ticchettio leggerissimo, flebile, eco attraverso i muri. Tuttavia è segno che essa sta salendo e si fa sempre più vicina. Anche il dormire in una camera interna, lontana dalla tromba delle scale, non serve. Meglio sentirlo, il rumore, piuttosto che passare le notti nel dubbio che ci sia o meno. Chi abita in quelle camere, riposte talora, non riesce a resistere, sguscia in silenzio nei corridoi e se ne sta in anticamera al gelo, dietro la porta, con respiro sospeso, ascoltando. Se la sente, non osa più allontanarsi, schiavo di indecifrabili paure. Peggio ancora, però, se tutto è tranquillo. In questo caso com'è escludere che, appena tornati a coricarsi, proprio allora non cominci il rumore? Che strana vita, dunque. E non poter far reclami, né tentare rimedi, né trovare una spiegazione che sciolga gli animi. E non poter neppure persuadere gli altri nelle case i quali non sanno. Ma che cosa sarebbe poi questa goccia? Domandano con esasperante buona fede. Un topo, forse? Un rospetto uscito alle cantine? No, davvero. E allora, insistono, sarebbe per caso un'allegoria? Si vorrebbe, per così dire, simboleggiare la morte? O qualche pericolo? O gli anni che passano? Niente affatto, signori. È semplicemente una goccia, solo che viene su per le scale. O più sottilmente, si intende raffigurare i sogni e le chimere? Le terre vagheggiate e lontane dove si presume la felicità? Qualcosa di poetico, insomma? No, assolutamente. Oppure i posti più lontani, ancora, al confine del mondo, ai quali mai giungeremo? Ma no, vi dico, non è uno scherzo, non ci sono doppi sensi, trattasi, ahimè, proprio di una goccia d'acqua, a quanto è dato presumere, che di notte viene su per le scale, tic, tic, misteriosamente, di gradino in gradino, e perciò si ha paura.